Ti senti mai addosso come se avessi dei tatuaggi mobili? Come Maui, il personaggio del film della Disney Moana tradotto in italiano c'hai, se no era troppo pornografico. Hai addosso della roba che si muove giorno e notte. Che ogni volta che si dà un'occhiata in giro e vede questo immobilismo, questa staticità, questi piagnistei, non ci sta dentro. E il tuo tatuaggino continua a dirti che devi fare qualche cosa. Se non lo sai neanche tu che cosa, senti in un qualche modo che vuoi lanciare un'iniziativa, vuoi lanciare un progetto, vuoi intraprendere. Non per i soldi o perché faccia figo lanciare lo start up, ma perché non ne puoi fare a meno. Ecco, se sei tatuato in questa maniera, fai parte, probabilmente, della specie protetta degli intraprendenti. Tra gli intraprendenti hai di tutto di più, hai gli intraprendentoni che hanno fatto grandi progetti, iniziative, aziende che hanno cambiato, le galassie, giù 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 giù, fino agli intraprendentini. Qui ce n'hai uno, gente semplice, che ogni giorno cerca di lanciare delle iniziative, delle idee, dei progetti, cerca di fare delle cose. Molto bene. Il punto da sapere è che la strada dell'intraprendenza non è una passeggiata di salute. E l'unica certezza che puoi avere è che siamo in pochi. Basta che ti guardi in giro e ti renderai conto che la massa, dove la metti sta. La massa non intraprende una sega di niente. Questo significa che gli intraprendenti devono essere preparati a quello che gli aspetta. E che cosa gli aspetta? Anzitutto preparati al fatto che quando arriverai a lanciare la tua iniziativa, a proclamarla, ad annunciarla, non ci sarà nessuna banda. E neanche uno straccio d'armonica. Sarai l'unico a dovertela suonare tra te e te, pensando che sia un buon progetto. Preparati a una sensazione poi di questo tipo. È come giocare a rugby, con le crocs. Con 40 gradi all'ombra, sempre tutto un po' acciaccato, e davanti a te, gente grossa, il triplo di te, che ti sta arrivando addosso. E tu, lì capirai di avere il tatuaggio sacro dell'intraprendenza, se in questa situazione abbastanza disperata penserai, però in fin di conto questa idea funziona, ce la faccio. Stai pronto e preparato. I momenti peggiori, quando ti girerai, non ci sarà mai nessuno. E lì capirai la frase di JFK. Le vittorie hanno molti padri, ma le sconfitte sono orfane. Preparati a fare quello che la gente comune non ha nessuna voglia di fare. Quando ti dicono, ma come posso fare a lanciare un progetto con una visione di lungo periodo, partendo senza una lira, c'ho delle bocche da sfamare io. E quella è la differenza, che uno se lo inventa. Se lo inventa diventando un giocogliere da Cirque du Soleil. Di volta in volta bilanciando tutto, facendo più lavori, parcheggiandoti un attimino, cercando di aspettare il momento giusto, tenendo sempre un'idea il contrario di quell'idea contemporaneamente nel tuo cervello, cercando di intuire quando smettere, quando reinventarsi, quando cambiare, quando fermarsi, per aspettare l'occasione giusta e quando annusi che qualche cosa possa veramente funzionare, buttandoti dentro all in, come un albatross più veloce di Mennea. Preparati per anni a vivere con gente che guida a sinistra, mentre tu guidi a destra, è peccato che non vivrai in Inghilterra, e la gente ti guarderà come dire, ma come cazzo guida questo? Nel tragitto di intraprendenza, aspettati spesso di fare dei copiosi bagni, all'interno di tinozze piene di merda. E sommerso in queste giacuzze al contrario, spesso dovrai chiedere una mano, e la gente ti guarderà con quello sguardo che dice, te l'avevo detto io, dovevi restare al tuo posto. E lì avrai la famosa scelta da fare. O torni al tuo posto, oppure dovrai trovare la forza dell'intraprendenza, e dirti, no guarda, io non lo so dove sia il mio posto, ma senz'altro non è quello lì. Eccoci qua amico mio allora, se sei ancora convinto di intraprendere, benvenuto, accomodati. Tanto siamo pochi.